Come si chiama Gesù Cristo? Gesù? Gesù Cristo? Il bambino? Gesù? Avrò la Bibbia, spezzo ossa, drippo vino, spezzo il pane, ripesso il vino, troppo biblico? Mi sento già benedetto! Potrebbe essere un po' interessante il trick di giocare con il discorso praise the Lord e non fare mai il solito pezzo trap. Giocare sul tema un po' della religione e della strada. Pax in quattro, Gesù Cristo in braccio, già. Ti faccio sentire un po' di roba, bisogna provare a fare due tre robe diverse, anziché tipo fossilizzare nessuna. C'è due tre robe diverse e poi dopo... M***a, così è interessantissimo, sembra quasi tipo una radiolina. Sì, è fico. Bellissimo, sono tutti super mega particolari, mi piace veramente un bot. Bacca, avevo tutta filmata che ti entra in giro, io non volevo... 20, 24, sono troppo poco. Bastivoso, cazzo. Le prime quattro hanno un bel fluo, che quasi lo ripeterai. E non tenerne tipo otto uguali, fai quattro, quattro e quattro uguali a quelli... Vabbè. È figo, no? Bacca, bro, a me piace tutte le mani che lo sto facendo. Sì, no, no, no. E che è forse suare adesso? Fa dieci anni, che era l'epoca, capito che faccio musica? Sì, poi ho su un'altra batteria tanti anni. Sempre vissuto in musica senza che la gente lo sapiese, capito? E poi è bello che ogni tot anni si riformano a una nuova tipo di rinforzione e iniziano a fare tutte le robe insieme. Brava, è no... C'è anche il fatto che fate tutti i featuring tra di voi è bellissimo, assoluto. Sì. Nooo. Proprio le barre mie che diventano più serrate, stanno meglio sulla chitarra quelle dopo. Sei impegnato? Oh, porco due, lo senti? A me piace. Guarda, se metto a viola crunch, c'è un po' nei lampi, cate inbranchi, mani in tasca. Tempista force bianche, immaculate. Mani inbranchi, mani in tasca dei piumini bianchi. Blu, 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 blu. Oh. Dentro al club bello ghiacciato, tutti al muro schiacciati. No, vediamo se ci piace con un po' di batteria dentro. Mafia black italic, punto blu metallic, c'è chi oro trovi feri. Non scriviamo più, capito? Ci mettiamo al micro, facciamo tipo una barra dopo l'altra, capito? Ok. Tipo flusso di coscienza, capito? E' figa pure, braccia tese dalle grate, piazzere di spaccio. Quella stacca. La gente che vuole... Piazzere di spaccio. Non stare calmo. Uh, uh, sui stacca. Ah, ah, ah.